Il Comune di Polla, nell'ambito delle iniziative promosse a sostegno della popolazione ucraina flagellata dalle azioni militari russe tuttora in corso, ha previsto anche l'apertura di un conto corrente postale dedicato per una raccolta fondi, il cui ricavato verrà devoluto attraverso i canali istituzionali al popolo ucraino. Si continua a sentire in maniera forte quanto sta accadendo in Ucraina e si susseguono quindi le testimonianze di vicinanza concreta. In ogni comune del Vallodidiano sono state avviate iniziative, l'amministrazione comunale di Polla sin dalle prime azioni di guerra che si sono registrate scese in campo manifestando la propria solidarietà anche ai tanti ucraini che risiedono stabilmente nella cittadina. Oltre alla raccolta di beni e farmaci sono state promosse nelle scorse settimane anche azioni di sensibilizzazione come la fiaccolata per la pace in piazza Monsignor Forte, il concerto per la pace promosso in collaborazione con la scuola locale. Ora è partita la raccolta fondi, è possibile fin da ora effettuare i versamenti. Terminerà il prossimo 30 giugno, l'amministrazione comunale assicurano al termine della raccolta procederà alla diffusione dei dati sulle somme raggiunte e la loro destinazione. Vogliamo aiutare la popolazione colpita? Mi piacerebbe individuare un comune ucraino a cui devolvere le somme raccolte per dare il nostro contributo alla ricostruzione di un bene comunale, nella speranza che cessi subito il fragore delle armi e il commento del sindaco Massimo Loviso.